Sono 9 in tutto i cinghiali abbattuti da Tripalda, San Potito, Santa Lucia, Santo Stefano e Sorbo Serpico, la zona di circa 1788 ettari, dove sono state autorizzate le battute al cinghiale per una squadra di circa 30 cacciatori. La notizia nei giorni scorsi aveva sollevato una serie di polemiche e preoccupazioni da parte dei residenti della zona interessata dalle battute, una vasta aria che parte dalla sponda destra del fiume Sabato fino alla collina di San Gregorio. La gente del posto, parliamo di una zona molto abitata, soprattutto dopo quanto accaduto in Liguria, un 19enne stato colpito mortalmente proprio da un cacciatore, temevano per la propria incolumità, anche dopo aver letto la segnaletica piazzata praticamente davanti alle abitazioni, che poi si è scoperto essere del tutto abusiva. Era stato il presidente dell'ATC, ambito territoriale di caccia, Antonio Raffaele, a spiegare ai nostri microfoni come si sarebbero svolte le battute per tranquillizzare la gente. E alla fine è andata proprio come detto da Antonio Raffaele, tutto si è svolto regolarmente e quindi nel massimo della sicurezza. I cacciatori giovedì hanno abbattuto un solo cinghiale, due sabato e ben sei nella giornata di ieri. La squadra di cacciatori giovedì è stata controllata dai vigili urbani, che hanno trovato tutto in regola ed hanno provveduto anche ad eliminare la segnaletica abusiva. Ieri i controlli sono stati effettuati dai carabinieri forestali, che hanno verificato davvero tutto, dalle planimetrie e documenti personali dei 23 cacciatori impegnati. Anche in questo caso tutto era perfettamente in regola. Le battute di caccia proseguiranno come da calendario per il mese di ottobre, il giovedì, il sabato e la domenica, mentre a novembre e dicembre solo giovedì e domenica.